E' un po' mezzo vuoto, prima c'era due sottimenti. Ma vuol dire che hai venduto? E' meglio cosi' no? Anche si. Comunque c'hai belle cose eh. Sono i personaggi che non riuscivano a fare. Sono tutti personaggi del lavoro no? Si so, dal pezzo sopra non mi si caffra più. Si può stare a tirare a dentro. Ah, a tirare, non girare. Mi puoi vedere? Grazie. Un mulino d'acqua. Grazie. Grazie. Buonasera. Grazie a tutti. E' un po' mezzo? E' un po' mezzo? Un po' mezzo? Un po' mezzo? che belle casette piccole che c'hai i pupazzetti li vuoi guarda che belli ci sono pure i remaggi io sto facendo un po' di particolari oh la fontana con l'acqua le pentoline la tavolata all'esterno un altro cammello già c'era un altro cammello su youtube ecco la natività buone festi il cammello il cammello e questo arriviamo anche lì guarda il fuoco carino ecco questo è un particolare bello il cammello ecco il proprietario eccolo è lui è lui che si è inventato tutta questa roba lo vedete non si fa vedere dove stanno le luci guarda queste sto lampeggio così qua pure l'alberetto giro eh uuuuuh uuuuh che bello è bello che c'è le palle dimetro eh c'è l'occhio no ti guarda mattina quando c'è traffico mamma quanto? 40 centri 40 centri vabbè bello eh vai vai la mia cosa mi piace due palle giallorosse vabbè comunque lasciamo vabbè buone feste